Ciao a tutti, sono Carlotta Ciao a tutti, sono Carlotta Ciao a tutti, sono Carlotta Ho iniziato le elementari perché alcuni miei compagni mi prendevano in giro perché ero bassa, anche adesso sono molto bassa e io pensavo anche di non essere tanto bella e ho raccontato a mia mamma e ha deciso di iscrivermi a un'agenzia e provare a iniziare a fare la modella Il mio primo lavoro è stato per Arket HM Siamo andati sul passo dell'Ostelvio, sul ghiacciaio del passo dell'Ostelvio a 3700 metri in agosto Abbiamo dormito in una capanna e poi alle 5 del mattina siamo andati con il gatto delle nevi in cima alla montagna e non riuscivo bene a respirare Faceva freddissimo, non potevo ne mettere i guanti e dovevo lasciare la giacca aperta ed è stato molto faticoso La cosa più importante è la scuola e continuerò gli studi e da grande vorrò tantissimo diventare una regista e anche molto un'attrice Grazie